Musica Televidento, gente, momento warpa, nos informenang for di Aruba e San Marten Musica 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 giunto, vanno a buscare una soluzione che vanno a enfocare per avere un'advisa di 30 giorni per la metà pura per arrivare, ma ho bisogno di più tempo per la metà, ma ho bisogno di riuscire con una frequenza per avere tre problemi di scuola, di governo, di scuola, abbiamo una soluzione per avere una messa sostenibile, duradera, per la carica movendo per l'alte. També, Ministro Cruz explica che un gruppo di esperti che ha fatto in novembre per explica la traiettoria deportiva e possibilità per l'ascolazione del sistema educativo in America. Il giorno 2 di novembre abbiamo il nostro plan per la elezione per il Movimento Electoral del Pueblo, ma anche il plan di direzione di nuovo per avere un accordo di governazione, lo dono rupi e attenzione al deporte per l'ascolazione, è tipo di companià, che è brucca che noi attenzione per l'ascolazione per l'ascolazione per avere un'ascolazione per avere una scuola per avere un'ascolazione di 50, 60, 80% e avere un'ascolazione con un'ascolazione per avere 100% dependendo del talento. Quero annunciare una autorizzazione per avere un'ascolazione di portare di un'ascolazione per avere un'ascolazione per avere un'ascolazione di 12 di novembre benissimo quando il nostro l'ascolazione riceve il primo gruppo che si chiama Aido Search For You è una companià di corsi che ha un'ascolazione con l'ascolazione che si chiama un'ascolazione per avere un'ascolazione Io non ho passato un programma così, perché apprezziamo il nostro gruppo. È un programma che la America prepara per il talento di educazione e l'esporto. È l'esporto che la edu-searche for you per rappresentare l'esporto, 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 l'esporto e l'esporto. Perché il 12 di novembre viene l'esporto, il gruppo è che va a fare una ruba e lo va a explica molto di talento, e lo va a explica in dettaglio che è il traietto che abbiamo avuto una volta che ci sono venuti, che ci sono venuti e guardati e che ci sono un'opportunità in una ruba per preparare l'esporto che abbiamo avuto per l'esporto. Televidente, mesura nostra passa per noi informazioni di San Marten. di San Marten. citizens is an issue. Currently, for example, the seniors who are catered to by EZV versus those who are catered to, and when I say catered to, I mean receiving a medical card from government, there is a difference where that treatment is concerned, where that package is concerned. Seniors, in addition to some of the most seniors, because I want to get to the point why I'm saying most seniors, but not even most, let me say many seniors encounter huge issues with dental care and vision care, eye care, and that, for me, is something that we need to look at, and the kind of assistance that the elderly get at this moment where those matters is concerned, and, of course, the issue of nutrition for our elderly, and that is something that we can't push forward to deal with, because fact is that right, right now, there's an issue with supply, and that is only going to get worse, which means prices that are already increasing are going to increase even more, so it is a good thing to preach nutrition, especially to our elderly, but we really have to have an understanding in terms of what part of our elderly population can actually afford to eat nutritious. Pabo pa keda deng sintonia di A Dutch Caribbean TV, paso semper bai bon programasyong tasigi. Amita Meritza Hakmat, i di parti di Turesnan ko a labura aweenoci, Pabo, paso un buonga noci, kuarda kvida, te proximo oka song, aki na Dutch Caribbean TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti.